Au che fai? Sto cercando il numero di un'associazione di Roma. Au che fai il misterioso? L'ho trovato, me lo appunto e poi fa la telefonata. Pronto? Pronto? Circolo Paolo Mieli? Di Roma? A Ciguei? Si, buongiorno, buongiorno. Telefono da Trieste e vorrei fare un'iscrizione istantanea. Come? No, 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 guardi, non sono mai stato della partita, però ho pensato, ora in questo momento non ho il Green Pass, no? Quindi ho una discriminazione. Magari mi scrivo da voi e quindi fanno due discriminazioni e qualcosa succede. Si? Palomieli? Palomieli? Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Certo si è proprio furbo, eh. Grazie. Grazie.